Buongiorno a tutti gli amici di Estetica, oggi siamo a Portorose in Slovenia dove Experience sta tenendo il suo tredicesimo congresso e siamo qui per parlare di bellezza, di salute, di benessere e tra i relatori del congresso appena sceso dal palco dopo un appassionato intervento c'è un ospite speciale che vogliamo conoscere oggi con voi, è qui con noi Filippo Ongaro, medico e coach e facciamo subito una domanda a Filippo, Filippo ha concentrato i suoi studi, i suoi approfondimenti e anche i contributi che porta in congressi in momenti come questo importante qui in Slovenia su epigenetica e neuroplasticità, sono due termini molto complicati a sentirli nominare però hanno a che fare con qualcosa di molto importante nella nostra vita che è il benessere e che è la capacità di mantenersi in salute e guardare al futuro e è un invecchiamento attivo e positivo nella nostra vita. Quindi chiediamo a Filippo di interpretare questi due termini, di spiegarceli sinteticamente e vedere perché sono così importanti per tutti noi. Sì, allora epigenetica e neuroplasticità sono due termini scientifici che alla fine in sostanza ci dicono che noi abbiamo nelle nostre mani la possibilità di regolare i fattori biologici che accelerano o decelerano l'invecchiamento. Epigenetica è un termine ormai abbastanza noto negli ultimi 10-20 anni, sono stati fatti molti studi e vuol dire in sostanza che il codice genetico può essere manipolato dall'esterno attraverso le informazioni che noi gli diamo con la dieta, l'atteggiamento mentale, il livello di attività fisica. Neuroplasticità è un termine un po' più nuovo e in sostanza è l'epigenetica applicata al cervello, cioè contrariamente a quello che si pensava fino a un po' di tempo fa, oggi sappiamo che il cervello è plastico, quindi continua ad adattarsi. Non è vero che dopo i 20 anni questo adattamento cessa, continua per tutta la vita e ovviamente si adatta prendendo abitudini negative o abitudini positive a seconda delle scelte che facciamo. Grazie Filippo, ascolta un fortunato spot televisivo di qualche anno fa con il mai dimenticato Tonino Guerra diceva che l'ottimismo è il profumo della vita, tutti abbiamo imparato questa massima, però c'è qualcosa di veramente vero in questo, l'ottimismo, la positività e in qualche modo noi ci occupiamo di bellezza, i nostri ascoltatori, i nostri lettori si occupano fatto della bellezza, la loro professione e il loro percorso di vita e c'è qualcosa che lega molto da vicino la bellezza e il benessere. Allora sicuramente sì, sia per quello che riguarda l'ottimismo che per quello che riguarda la qualità delle relazioni che abbiamo, anzi c'è un grande studio di Harvard che dice in sostanza che la nostra vita emotiva è forse il fattore più importante per vivere a lungo e bene, ma anche una relazione tra benessere e bellezza, in realtà questo in natura si vede molto perché chiaramente la bellezza è un fattore che in genere coincide con un grado di funzionalità più alto, cioè anche la persona che esteticamente dimostra meno anni di quello che ha è probabilmente una persona che è veramente invecchiata a meno, quindi io credo che poi in ultima analisi ci sia un altro fattore che è quello che curare la propria bellezza vuol dire piacersi di più, vuol dire piacere di più agli altri e questo è un fattore molto importante per mantenere quella grazia che serve per invecchiare bene. Quindi ancora più importante immaginiamo per chi ha fatto della cura della bellezza altrui oltre che della propria, il proprio motivo di vita professionale, di crescita professionale come è il caso degli acconciatori che sono ovviamente il nostro pubblico principale. Un'ultima domanda, ora chiederti, proprio a proposito della professione degli acconciatori che è una professione molto artigianale, anche fisica per certi aspetti perché sono costretti a stare in piedi parecchie ore, a fare una serie di movimenti anche dal punto di vista della ripetitività. Quanto è importante nel benessere, nella crescita del benessere, l'aspetto fisico, il mantenimento di un'attività fisica anche magari leggera non necessariamente e quanto questo legame con chi ha l'occasione professionalmente di farlo è importante? Penso che ormai le ricerche che dicono che l'attività fisica è fondamentale per invecchiare bene sono veramente tante. Tendenzialmente non deve essere un'attività eccessiva, si parla in genere di qualcosa tra i 150 e i 300 minuti alla settimana per avere il massimo dei risultati. Oltre quel livello lì aumenta la prestazione, si entra più nella dimensione dell'atleta ma non è detto che aumentino i benefici per la salute. Credo che per persone che usano anche il loro corpo sia come veicolo di un messaggio perché ovviamente apparire più in forma è un messaggio importante anche nei confronti dell'utente, del cliente, sia perché fanno uno sforzo fisico nell'esecuzione del loro lavoro diventi una cosa direi quasi fondamentale. Bene, noi vogliamo ringraziare Filippo per essere passati da noi ad approfondire questi concetti. Vi diamo appuntamento agli altri approfondimenti che faremo sul tredicesimo congresso di Experience qui da Portorose in Slovenia e vi ringraziamo per averci ascoltato. Grazie ancora Filippo, buona giornata e buon proseguimento. Grazie. Grazie. Grazie.